Era una partita importante, sei stato il protagonista assoluto, gol e assist per sorriso, quando serve? Per fortuna tu ci sei. Sì, rispondiamo sempre presente, questo è l'importante, come ha risposto presente tutta la squadra, magari sono consapevole che oggi non è stata una prestazione da cento e lode, però c'era bisogno che la squadra vincesse e questo abbiamo fatto. È molto importante questa vittoria, i tre punti, portare la felicità in campo di nuovo negli spogliatoi, abbiamo passato tre settimane veramente, non voglio dirlo e non c'è niente da dire, la settimana prossima a Villa di Terno dobbiamo giocare il tutto per tutto.